ma quanto sono bella anche stamattina guardatemi ma guarda che occhi e che faccia e ciao ciao ragazzi ciao ciao questo è il mio rossetto bellissimo bianco questa volta bianco ecco perfetto e questo questo non so cos'è cioè cos'è una crema crea a mani a mani immagino a no questo è una una cremetta lucida labbra no no questo è non ho idea mi dispiace non ho idea non ho idea perché non non me ne intendo veramente questo non so cosa c'è veramente praticamente mi sto spalmando questa crema intorno agli occhi e sto facendo tutto con anche con un con un pennello pennarello anzi è così adesso sono perfetta perfetta vedete che bella che sono veramente figa veramente figa ecco cosa sto facendo si sta abbellendo mi sto abbellendo e adesso mi sto dando due colpi di matita due colpi di matita per far sembrare il mio sopracciglia perfetto guardate che bellezza mamma mia guardate adesso me ne sto anche pettinando le sopracciglia le pettino perfetto perfetto ecco questo invece è una una qualcosa per sopra gli occhi per mettere sopra gli occhi sta spalmando il tutto ecco si stai spalmando scusa a sto scusa ecco questo cioè ti giuro non so cosa è sta roba sto pitturando il sopra occhi lo sto pitturando in giallo veramente infatti guardate che pennello bello che sembra qui sono qui i pennelli tipo da scuola da disegno si giallo il giallo tutto il giallo infatti immagino che vuoi averle gli occhi da cinese immagino eccoci qui adesso sempre con i nuovi colori questa volta ecco sempre intorno agli occhi nuovo pennello eh che bello ecco ecco sempre intorno al tuo colore giallo in mezzo ci vai in mezzo e adesso sempre infinito questo disco sempre uguale sempre le stesse cose e nuovi colori come come il solito e sempre nuovi pennelli e adesso il nuovo pennello infatti questo più pulito eh sì così e si stai ci stai pitturando veramente intorno agli occhi mi sto io pitturando sì e adesso con questo nyx che me lo metto sopra gli occhi come sempre ecco me lo sto prendendo proprio ecco nuovo colore sempre bianco verso il bianco ecco sempre sopra gli occhi io veramente mi sto impegnando molto a mettere questi tutti questi colori intorno agli occhi cioè sono veramente una persona molto creativa anche adesso sopra la bocca c'è anche sopra il naso c'è sono creativissima ecco guardate qua anche con la matita col c'è veramente stupendo questo lavoro sono tipo un clown però 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 è bello ecco guardate qua anche intorno agli occhi solito ecco adesso 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 c'è la cosa che mi piace più di tutto e comunque ecco il rimel adesso mettiamo intorno agli occhi e rimel che bello ecco adesso adesso stiamo passando ancora ancora ultimi punti sul rimel ecco il famoso pettine largo che lo utilizziamo proprio intorno ai nostri orecchini e così sopra il mento e la fronte e il collo dappertutto per essere più pulita e più perfetta possibile intorno al naso ovviamente non mi faccio mancare niente anche col tuo uovo col tuo uovo con il mio uovo lì rosa ed ecco finalmente il punto finale e il principale il rossetto che bello mettere il rossetto comunque colore medio barone ecco adesso c'è un altro pennellone questa volta sempre sulle guance adesso non stiamo tanto sugli occhi ma sulle guance ecco guardate che bella che sono mamma mia mamma mia figona ciao a tutti grazie di tutto grazie a tutti